Nel tuo libro dici quali sono i principi che bisognerebbe seguire per garantire anche questa crescita? I miei principi sono tre, uguaglianza di possibilità come principio fondamentale, tutti devono avere una possibilità nella vita, l'articolo 3 della Costituzione è dovere dello Stato fare in modo che tutti abbiano una possibilità nella vita. Gli altri principi sono premiare il merito, perché se non premi il merito che cosa premi? I tuoi amici. E in Italia dobbiamo cambiare un po' anche questa cultura. E poi terzo ci vuole un adeguato grado di solidarietà perché per tanti motivi uno di questi, chi arriva primo nella vita in media è stato anche probabilmente più fortunato di chi è arrivato ultimo, quindi un certo grado di redistribuzione è giusto anche soltanto per questo motivo. Grazie a tutti.